Le leggi ci chiedono di sapere tutte le leggi italiane, un punto di questa legge è l'educazione civica e io voglio sapere, mettono un emigrato vicino a uno che sta lì seduto nel governo e le fanno la stessa domanda di sicuro l'immigrato risponderà corretto che è un parlamentare, a me non me ne frega niente prima di imparare, deve lo stesso dare l'esempio, ma non chiede a un emigrato di passare 500 ore a imparare la lingua italiana già l'educazione civica, già la impariamo della strada, quindi è automatica come ti chiami? Merrar Mina, Mina, Mina